Sì, ho giocato con calciatori leggendari come Totti, come De Rossi. Ho conosciuto una tifoseria fantastica. L'Olimpico quando si riempie di giallo e rosso e quando è tutto pieno, credo che sia uno degli stadi più potenti del mondo. Lo vedo adesso in televisione, credo che hanno fatto sold out tutto il 2023 ed è fantastico quando tu guardi la tv e c'è quella sigla della Roma ti fa venire la pelle tua, quindi tifosi fantastici. Spero che ci sei andato grazie a un sms di De Rossi. No, lui mi scrisse quando già avevo firmato, andiamo a vincere, bellissimo.